Da sabato 15 fino a domenica 23 luglio inaugura al municipio di Predazzo il progetto Mostra d'Arte i Paesi dell'Arte. Nove artisti italiani hanno ideato una collettiva itinerante con l'intento di promuovere il dialogo tra arte contemporanea e paesi attraverso una staffetta partita lo scorso anno da Urbino e quest'anno prosegue nel Trentino. Per l'occasione il tour espositivo cambia nome dove i borghi vengono sostituiti dai paesi. I protagonisti della mostra sono personaggi provenienti da realtà geografiche diverse Vitalino Angelini, Gianluca Bastianelli, Giovanni Bellantuono, Daniele Bernardi, Paolo del Signore, Maria Pia De Silvestro, Pier Giorgio Doliana, Gastone Mariani e Valentina Michelutti. Un confronto tra scuola pittorica trentina che si incontra con quella della provincia di Pesaro e Urbino. L'esposizione sarà poi allestita dal 27 luglio al 5 agosto a Ziano di Fiemme, a Villa Flora e a Tesero dal 9 al 20 di agosto a Casa Iellici. È partita lo scorso anno con la mostra in cinque borghi del territorio, Urbino, Fermignano, Orciano, Mondolfo e Monbaroccio. Quest'anno si sposta in Val di Fiemme aggiungendo ai cinque comuni del nostro territorio tre comuni della Val di Fiemme. Durante l'iniziativa gli espositori e gli artisti sono gli stessi, ma durante l'iniziativa nella piazza principale di Predazzo ci sarà un maxischermo che illustrarà tutti gli otto comuni, quindi cinque della Val di Fiemme e tre del Val di Fiemme e cinque nostri. Poi sarà un momento un po' emozionale, molto importante. Speriamo nel prossimamente di contattare altre zone per continuare a pubblicizzare e a dare visione ai paesi del nostro territorio che è molto bello il nostro giudizio.